ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nuova power station economica piattaforma sito di vendita gic boeing abbiamo molte esperienze di acquisto su questo sito in caso di assistenza non spariscono anche se magari non è che appena mi ha dato un'email vi mandano un prodotto nuovo bisogna avere un po di pazienza però si trovano i migliori prezzi abbiamo un magazzino europeo delle spedizioni veloci e comunque un sito cinese quindi acquisti online carte di credito non c'è possibilità di avere fatture italiane eccetera cosa proviamo oggi proviamo un prodotto di un marchio che si chiama daran enner avevamo già provato la sorella un po più grande quella da 2 kilowatt oggi proviamo questa che si chiama neo 1005 pro non è un prodotto fantastico non ha caratteristiche eccezionali non ha funzioni avanzate non ha materiali premium non ha niente di tutto quello che può collocarla diciamo come prodotto top di gamma è un prodotto molto cheap economico può interessare perché la porto sul canale perché comunque costa veramente poco 629 euro che diventano 599 col coupon che trovate in descrizione leggete le descrizioni perché mi chiedete le cose poi sono tutte qua sotto quindi meno di 600 euro per una pole station da 1800 watt di potenza 1382 wattora di accumulo quindi quasi un kilowatt e 4 600 watt di ricarica dai pannelli fotovoltaici il tutto in 19 chili allora mi è sembrato un prodotto che poteva interessare a qualcuno faremo una prova non molto dettagliata veloce senza soffermarci più di tanto su tutto quello che avevamo già visto sulla sorella maggiore però facciamo le prove principali quelle che servono a capire se funziona e come funziona ora taglierei la testa al toro non perdere il tempo andremo avanti col video ma prima cliccate qua sotto che per voi è solo un click non costa nulla gratis ma mi dareste una grossa mano a far crescere il canale procediamo con lo spacchettamento un po di test e poi a fine video facciamo le conclusioni daran error neo 1500 pro già dalla scatola vediamo 18.7 kg qui è scritto tutto in tedesco comunque tutti i dati tecnici li vediamo poi sulla macchina spacchettiamo non abbiamo la scatola nella scatola troviamo subito sopra manuali avvertenze cartoncini vari e accessori in ballo l'avevamo mi sembra già notato l'altra volta che è fatto in un modo intelligente perché potete mettere la mano e il dito e non dovete incastrarli intorno sembra una cavolata però vuol dire che chi studia queste cose ha un minimo di testa qui la power station senza altre protezioni senza sacchetti comunque abbastanza leggera molto portatile diamo prima un'occhiata ai manuali e agli accessori allora certificato di garanzia altro cartoncino di ringraziamento altro foglio di attenzione per il discorso mc4 manuale di istruzioni solo in tedesco cavo di ricarica a c diretto cavo tipo c tipo c da 60 watt almeno c'è cavo mc4 terminazione xt 60 non 90 ma la più piccola da 60 la nostra daran ener da 1500 è praticamente identica all'altra forse è un pelino più piccola anzi senza forse su questo lato griglia per la reazione sul retro nulla ma comunque materiali che non sono malissimo plastica grigia ecco il pulsante un po più chip quello della luce sull'altro lato sempre griglie non c'è la ricarica wireless c'è un piano d'appoggio non è croccante abbastanza robusta le maniglie hanno questa parte interna con una gomma per l'impugnatura che non è male guardiamo i dati tecnici batteria live po 4 1382 watt ora 54 ampere ora sul 25.6 volte quindi abbiamo un pacco batterie che metà della tensione delle diciamo le medie che normalmente sono a 52 volte tre uscite a c da 1800 watt massimo 2004 in bypass poi verifichiamo sulle usb c abbiamo al massimo 100 watt con 3 ampere sul 20 volte ma poi le guardiamo ricarica c 10 ampere massimo 2400 watt ingresso solare xt60 porta da 33 a 60 volte massimo 600 watt abbiamo di nuovo questa porta anomala e non si può caricare eventualmente con un 12 volt null'altro di particolare serial number tutto qui davanti abbiamo l'uscita a 12 volte 10 ampere e i connettori a 12 volt da 5 e mezzo ce ne 4 gli sportelli sono sempre un po così tutto il resto non è neanche male poi come già avrete visto io quella più grossa la sto usando in officina per la parte a 230 volte comunque funziona ancora tutto bene ingresso diretto 230 e ingresso xt60 anche qua ci ricorda da 33 a 60 volt massimo 600 watt poi la parte delle tre prese sciuco con protezione pulsante a c pulsante che riguarda tutta la dc dietro abbiamo il pulsante per accendere la luce come già sulla sorella più grande abbiamo questo pulsante che dovrebbe fare tutta l'accensione ma non parte quindi gli darai direttamente l'ingresso a c questa volta abbiamo anche tutto questo led che si illumina molto scenico lo stesso display dell'altra 79 per cento sta ricaricando in ac a 1200 watt togliamo la ricarica allora abbiamo una ventola di lato che gira circa 57 decibel di rumore nel momento in cui la accendiamo o la ricarichiamo da ac se come l'altra dovremmo avere direttamente l'uscita c accesa quindi non c'è modo di attivare e disattivare l'uscita c e accendere la macchina o la accendiamo sulla parte a c o la accendiamo sulla parte in dc e la macchina abilita il funzionamento sia dell'uscita che della macchina stessa possiamo spegnere l'illuminazione e il display premendo velocemente il pulsante se invece teniamo premuto spegniamo l'uscita c ma spegniamo di fatto anche la macchina se accendiamo la parte in dc vedete che si accende il pulsante della parte in dc quando è acceso il dc possiamo anche accendere la parte a c allora in questo caso possiamo spegnere solo una o solo l'altra rimane accesa la parte a c poi possiamo scegliere se tenere acceso o spento il display per quanto riguarda la luce va un po' a random non ho ancora ben capito come viene gestita allora prima di fare tutte le prove strumentali vediamo un po' come si comporta in ricarica quindi prendiamo il suo cavo xt 60 che tra l'altro è anche abbastanza lungo e sembra anche ben realizzato ha anche il rinforzo cui antirottura il cavo è piccolino ma per le potenze in gioco va benissimo iniziamo col dare un 24 volt e dovremmo verificare che effettivamente non parte la ricarica infatti la ricarica non parte stacchiamo il 24 volt proviamo invece direttamente con un 48 volt in questo caso invece mi segna l'ingresso dei pannelli parte la ricarica a 500 watt parte anche un'altra ventola supplementare ventola che si sente ma siamo comunque sotto i 60 db quindi accettabile vediamo invece come si comporta in dc più ac e vedete che somma la potenza di ricarica in ac più quella che sta arrivando in questo caso dai pannelli simulati e ad esempio adesso si attesta a 1850 watt non c'è modo di regolare l'ingresso ac in questo modo la carichiamo molto velocemente diciamo che se è da caricare al volo per portarla in giro anche solo a 1200 watt della parte in ac riusciamo a caricarla comunque molto in fretta facciamo la prova di ups luce accesa proviamo a staccare l'ingresso vedete che lo switch è pressoché istantaneo ridiamo la ricarica stessa cosa poi verifichiamo l'uscita fase 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 neutro connesso alla rete abbiamo l'uscita monofase togliamo l'ingresso di rete e ve lo faccio vedere al buio abbiamo una piccola fase da 110 su entrambi i fili ricolleghiamo l'ingresso ac onda sinusoidale che non mi piace per nulla e non è un problema di fase perché è girata dalla parte giusta ma non è neanche un problema di strumento perché se lo collego al 220 di casa vedete che mi dà l'onda sinusoidale perfetta già in uscita con il bypass non è un granché togliamo l'ingresso di rete e vedete che di onda sinusoidale pura non c'è proprio nulla per l'uscita diciamo è quello che è adesso poi verifichiamo anche attaccando la casa se comunque funziona tutto attacchiamo ad esempio il termosifone svedese vedete che parte un carico di 800 watt quindi riesce comunque alimentarlo senza problemi entriamo con l'ingresso xt60 vediamo se parte la ricarica solare sento che parte la ventola mi segna i pannelli ma il display qua non segna nulla allora stacchiamo l'uscita dalla power station vedete che adesso mi segna un ingresso di 217 watt che poi diventano 500 sale piano piano riattacchiamo il carico mi toglie l'ingresso quindi mi sente i pannelli ma con un carico in uscita non riesce a gestirmi l'ingresso fotovoltaico accendiamo anche l'uscita ci accendiamo anche l'uscita dc e facciamo una prova no nulla quindi stacchiamo l'ingresso fotovoltaico il carico continua ad essere alimentato a 800 watt diamo adesso l'ingresso a c le carica comunque a 1200 watt che ci sia o meno un'uscita e che sia piccola o grande lei comunque carica a 1200 watt non va a sommare i 1200 più l'uscita ma al massimo questa carica a 1200 tutta la parte in dc dove abbiamo attaccato un telefono che in questo momento è in ricarica veloce vari dispositivi un tablet action camera orologi eccetera tutto bene se più di 70 watt perfetta per caricare in giro device portatili eccetera in questo caso l'accumulo e diventa praticamente infinito per caricare piccoli dispositivi allora sto alimentando qua al piano 250 watt di consumo luce a neon con tubi a led funziona correttamente altra luce con tubi a led dello studio tutto ok la parte dei computer stampante tutte le cose elettroniche funzionano correttamente adesso si stanno avviando perché le ho appena accese idem il computer comunque tutto bene pensavo peggio idem la luce schizzinosa allora appena l'ho accesa sfarfallato per un attimino poi si è comunque stabilizzata si può usare anche per alimentare in caso di emergenza la casa diciamo che non ha delle gestioni ottimali poi per programmare ricariche eccetera perché lei prende tutto quello che può da c e tutto quello che può dai pannelli anzi dal pannello perché ci limita molto però comunque pensavo peggio soprattutto mai più avrei pensato che questa luce funzionasse correttamente comunque uscita c bifase che l'onda sinusitale proprio non ce l'ha si riesce comunque ad usare questa roba proviamo magari a vedere con un elettro utensile come si comporta allora vediamo subito con una bella smerigliatrice un flessibile bosch professional da 750 watt e non ce la fa è andata tipo in protezione si è disattivata all'uscita c quindi non ce l'ha fatta a farmi fare lo spunto di questo motore ce l'ha fatta tranquillamente ad alimentare il radiatore svedese da 800 watt però in questo caso dove c'è bisogno di uno spunto importante perché è un motore che parte non ce l'ha fatta una power station della quale abbiamo fatto una prova veloce sappiate che esistono anche questi prodotti la vedo bene da portare in giro per accendere delle luci fare roba piccola ok perché non ha molta potenza benissimo chiaramente la parte in dc costa poco comunque funziona molto limitata non ha nessuna funzionalità programmabile però il mio lavoro è anche portare i test di questi prodotti economici molto chip adesso poi magari un giorno proviamo a smontarne una anche per vedere come sono fatte dentro rispetto a quelle di qualità più alta però sono prodotti che comunque vendono funzionano piattaforma geek boeing quindi comunque un venditore che vi dà dell'assistenza se avete bisogno in garanzia fuori garanzia questa roba la prendete e la buttate nel cestino e questo è tutto un video veloce per provare un'altra power station ne proveremo ancora purtroppo ma per fortuna ne ho almeno 6 o 7 in coda da testare quindi pian piano ci arriviamo se vi è piaciuto comunque il video un bel like iscrivetevi al canale che non costa nulla ci vediamo alla prossima prova se passate negozi un bel caffè o giovedì sera diretta grazie ciao da massi dattoli grazie a tutti grazie a tutti